Un pomeriggio, questo è il mio giardino, guardate che spettacolo, ho tanti alberi sia di arance dolci, limoni, mandarini, aranci amare, albicocche, fichi, fichi, piantine di limoni, nonostante che siamo ad agosto ci sono ancora qualche mandarino, albero di pere, eccoli lì, l'albero di limone che stanno maturando i limoni, eccoli lì, le arance che stanno pure maturando, quante arance, quanta bontà, questo è origano selvatico che già ho raccolto e c'è rimasto qualche cespuglio, questa meravigliosa pianta di fichi, storica, piena piena di fichi come potete osservare, che adesso raccoglierò, ecco che buone, le tagliamo in diretta e le mettiamo nelle cassettine mamma mia, sono come i dolcetti, buonissime, mamma mia, sono una delizia, per oggi vanno bene così, faccio una bella scorpacciata, saranno un paio di chili, buona giornata a tutti, alla prossima!